Buon Dì, buongiorno, buon pomeriggio, sono le 4 e 25, le 16 e 25. Per l'esattezza di domenica, oggi è domenica, buona domenica. Allora, comincia a far freddo, se sentite un muro, è la famosa, è la sua pelle, la famosa sua pelle, incriminata, dove incriminate sono anche i sacchi di pellet che costano così tanto. Bene, oggi vi parlo di un libro che ha finito fresco, 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 fresco proprio stamattina. Ho versato un sacco di lacrime stamattina, alla fine di questo libro. Vi parlo di un personaggio piuttosto, se vogliamo, controverso, particolare, come anche controverse particolare. e cannella, che si recchia le giamme in diretta. Allora, ciancio le bande, vado subito al solo. Oggi vi parlo di Il volo della martora di Mauro Corona. Io non nego, assolutamente, anzi, non lo voglio proprio negare, che questo scrittore, questo uomo, mi è sempre piaciuto un botto. Però, diciamo, un personaggio controverso nel senso che, allora, è da alcuni accusato perché lui pubblica per Ramondadori, che è ritenuta un pochino una casa editrice, diciamo, d'elite. Infatti, sia comprare un libro della Mondadori, che pubblicare, credo che posti il botto, a meno che tu non sei uno scrittore già fermato, un vero pennella, diventa un po' dura. Se volessi pubblicare io con la Mondadori sarebbe difficile. controverso nel senso che lui vuole dare di sé un po' questa immagine di Montanaro, di gran bevitore, di boscaiolo, di uomo che vive in sintonia con la natura. Cosa che io credo, assolutamente, sia così. Io lo credo, ci credo, perché trovo i suoi libri estremamente sinceri. Invece io trovo sia un uomo sincero, semplicemente racconta quello che è accaduto e gli sono accadute cose non simpaticissime. Allora, vi ho fatto vedere la foto della copertina sul tablet perché l'ho letto su Kindle, questo libro. che dire, quando una cosa mi coinvolge particolarmente è sempre un po' difficile parlarne. A me la tragedia del Vaionte, devo dire, mi ha sempre commossa in una maniera che quasi non riesco a capire, non riesco a comprendere. perché, insomma, io non ero ancora nata, non era dalle mie parti, tra parentesi. È stata una cosa talmente non inaspettata per le persone del luogo, ma inaspettata in generale, no? Per l'Italia che è una cosa che ha toccato molto fortemente la sensibilità. Mi sono tolta la maglia di lana per farla diretta e ovviamente Canela ci deve andare sopra, no? Tutti i miei spostamenti di occhi che vedete sono nei confronti dei gatti che devo tenere sott'occhio. Una tragedia che ha segnato profondamente. Secondo me nel DNA le persone, specie chi viveva proprio in quel luogo. Allora, il volo della Martora. Cos'è la Martora? Innanzitutto la Martora è una specie di... Avete, per esempio, un furetto. È un furetto un po' più grosso. Cos'è un furetto? Andatevelo a cercare. Io più di così che vi devo dire. Perché il volo della Martora, siccome non ha le ali? Perché la Martora, essendo stata, o forse essendo ancora, un animale cacciato, molto cacciato, ha affinato delle qualità per cui, diciamo, si sapeva aggiustare, no? Allora, si pare, si dice che si aggrappasse alla schiena dei galli forcelli. I galli forcelli cosa sono? Lo sapete, ve lo dico dopo. Loro, quando spiccavano il volo, tra che lo dovevano spiccare al volo, tra che spaventati da questa presenza sulla schiena, facevano dei balzi, dei voli molto lunghi, nonostante il peso della pistola sulla schiena, di modo che la Martora a un certo punto scendeva quando gli pareva un po' a lei che fossero state perse le sue tracce. Lo faceva per far perdere le sue tracce, non perché la Martora voli, no? Il volo della Martora aveva proprio questo gesto che compiva la Martora per riuscire a sfuggire ai cacciatori. Allora, forse sono riuscita anche un pochino a padroneggiare un po' più il calendar. Questo libro, allora, il libro è suddiviso in diversi lotti. Il lotto alberi, dove c'è mio nonno, il faggio, la mina, il pero e il melo, i tirataie, le foglie. La sezione animali, con il cuculo, il gallo forcello, la volpe, il volo della Martora, la malga e il maiale. Gente, la sezione Gente, le prime scarpe, il vecchio cacciatore, l'ultimo arrottino, la venditrice ambulante, l'amico buono, il ritorno, Svalt, mio fratello. E l'erto cammino, la profezia, Silvio, la strada, il vecchio pin, la radura, l'ultima estate. Allora, io devo ammettere che io proprio pianto, pianto in certi passaggi, perché si avverte proprio in queste descrizioni non tanto la prima parte di questo libro, degli alberi, che è bellissimo, perché comunque lui tratta gli alberi come se fossero proprio delle persone con cui colloquiare, consapevole del fatto che comunque ai tempi e anche ora, diciamo la legna è un combustibile, serve per scaldarsi l'inverno, figuriamoci in quei luoghi lì che c'è bisogno di scaldarsi veramente. E quindi però, sin da bambino, Mauro Corona ha avuto questo estremo, come dire, questo estremo rapporto molto empatico con tutto ciò che lo circondava delle sue parti. Lui ha, credo, abiti ancora ad Erto, tra l'altro, il paesino appunto del, il paesino che è stato travolto dalla, 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 dalla diga del Vajonte. Il faggio, la mina, il perro e il melo, i tirataie, le foglie, insomma, mi ha colpito molto la mina, no? Praticamente, questo signore che andò a tagliare quest'albero, che sentiva ormai, perché poi le gente di montagna, specialmente a questo forte, sento, sembrano i montagnini che dicono che sono, però forse sono un po' chiudi nei confronti della gente, perché parlano con altre cose, altre entità, che forse con i quali è meglio parlare che non con gli esseri umani. Quando sentivano che un certo albero stava per rendere l'anima, allora lo facevano saltare. Capitava che ci fossero questi alberi, che erano proprio su un costone, cioè, così, e giù c'era il precipizio. L'attaccamento anche delle persone, questo boscaiolo che ha fatto di tutto per riuscire a tagliare questo benedetto albero, mi pare fosse un ciliegio, e la sua vita è finita con la vita dell'albero, perché l'albero non ha voluto cedere, ma nemmeno lui ha voluto cedere, quindi hanno concluso il loro cammino terreno insieme, giù nel burmone. Non so che non dovrei dirle queste cose, ma lo verrei stesso. Le foglie, per esempio, proprio la descrizione di ogni albero, come cadono, come si depositano sul terreno, oppure come vengono portate via dal vento, perché ogni albero corrisponde a un diverso comportamento delle foglie. Bellissimo, proprio. Il capitolo sugli animali, il cupolo, che compare spesso nei racconti di Corona. Questa voce malinconica, un po' triste, che però è anche consolatoria. Il gallo forcello, il famoso gallo forcello, che è una specie, detto anche faggiano di montagna, ha queste piume che fanno così, della coda. Ed un tempo era molto ambito dai cacciatori, ma questi non è che pigliavano la fucile e andavano per i boschi a sparare ai passorotti, alle farfalle, a tutti quanti, come fanno adesso quelli che vanno a caccia. Questi qui andavano a galli forcelli. La mia non è una giustificazione della caccia, però andavano a galli forcelli perché? Perché avevano le famiglie da mantenere. E la coda del gallo forcello era molto pregiata, perché veniva messo sul cappello di persone molto ricche. Quindi catturare un gallo forcello era una festa, perché ci si guadagnava parecchio con queste benedette piume. Dicono fosse immangiabile e in uno di questi racconti invece c'è anche la persona, quella più schiva, che stava sempre dietro, che diceva che mangiasse anche i galli forcelli, che gli facesse tutto un trattamento, li metteva nel ruscello, li lasciava lì un po' che così perdevano probabilmente questo gusto di estremo selvatico. Il volo della martora, come appunto vi ho descritto perché si chiama il volo della martora, oggi più nessun gatto che viene da me, ma che roba, con sette gatti in casa, vabbè. Non vi dico altro, è un racconto molto complesso, perché questa martora, fortuna sua, è un animale estremamente furbo. Non è che si faceva catturare così facilmente. Il maiale, il maiale mi ha fatto un po' tenerezza, perché questi bambini si affezionavano poi a questi besti, che poi alla fine diventavano come degli animali domestici, poi invece alla fine dell'anno bisognava fare i salami e quindi c'è uguale, come si suol dire. C'è qualcuno che mi vede, ma io purtroppo non riesco a riconoscervi da qui. Ah sì, della sezione Gente, un racconto che mi ha molto colpita è stata le prime scarpe, che sarebbero state le prime scarpe di Mauro, che erano state trovate appunto in una discarica, dove andavano a puttare l'immondizia. Lui aveva visto queste scarpe che potevano essere della sua misura, tutto contento, le piglie, le porta a casa. Il nonno, che era un bravo aggiustatore, come ormai non dice più gente in queste cose qua, ma gliel'aveva rimesso tutto nuovo, lui tutto orgoglioso, indossa queste scarpe, va, esce in paese insieme ai suoi amici, poi capita una cosa che non ve lo dico, perché sennò vi racconto il racconto. Però mi è rimasta impressa questa cosa, perché... e deve essere rimasta molto impressa anche lui, devo dire la verità. Poi non sto a raccontare, sennò vi dico tutto il libro, è molto, molto toccante anche la storia del fratello, del fratello che tentò di fuggire da questa vita di Stenti, se vogliamo, molto dura, però poi tornò in una cassa da moto sostanzialmente, nel suo paese. L'erto cammino, l'erto cammino è... Allora, all'inizio del libro, non dico leggerezza, perché il fatto di andare a caccia non è una cosa così leggera, e poi contate che questa gente andava a caccia su terreni molto ripidi, insomma, era una fatica boia, la vita della gente di montagna è una fatica boia comunque, perché tutto è in salita o tutto è in disceso, cioè non è che ci sia una via di mezzo, quindi però con una certa, come dire, non so trovare il termine, man mano, piano piano, anche per quello che dico che Mauro Corona è un narratore veramente straordinario, perché lui piano piano, senza farsi accorgere, ti fa entrare in quello stato d'animo che ti vuole far provare pian piano, senza che tu te ne accorgi, pian pianino, gente, l'erto cammino, sull'erto cammino poi, e poi la tragedia del Vaillant la nomina quasi sempre, in ogni racconto e lo definisce sempre prima del Vaillant, dopo il Vaillant, prima del Vaillant, dopo il Vaillant, perché praticamente fu una cosa talmente inimmaginabile e terribile che fu proprio uno spartiacomo nella vita di quelle genti, di quelle montagne, quella che mi ha proprio tolto le lacrime dagli occhi, me le ha strappate, perché io ultimamente non riesco più tanto a piangere, invece che mi ha proprio strappato le lacrime, sono state la radura e l'ultima estate, dove racconto proprio nello specifico la vita di una famiglia, il nascere di una famiglia, lo svilupparsi, e poi la tragedia del Vaillant che strappa via tutto, i sacrifici, i momenti di gioia, i momenti di tristezza, il lavoro, l'impegno, tutto, in un attimo, una notte, la notte del 9 ottobre del 1963, questa diga, il Monte Toc, cadde dentro alla diga, una delle dighe più grandi del mondo, l'acqua strabordò, la diga si ruppe e travolse tutto ciò che c'era da travolgere, compreso anche il paese di Erto, si salvarono soltanto alcune case che erano un po' più, diciamo, in alto sul crinale. Cosa dire? La radura è l'ultima estate, la storia di questa famiglia, nata, questa famiglia è nata proprio in questa radura, di un uomo che ha costruito la propria casa in questa radura, ha trovato moglie, ha avuto dei figli, è una vita quasi perfetta, se vogliamo, in quei tempi e in quei luoghi soprattutto, una comprensione familiare pazzesca, incredibile, invidiabile ai giorni nostri, no? nonostante appunto la durezza dei momenti spazzata via così e questa bambola di pezzi senza braccia che viene trovata da un vecchietto è posta sul pavimento di ciò che rimaneva della casa perché dovete sapere che le poche cose che sono rimaste non in piedi perché non erano in piedi, dalla tragedia del Vaionti sono stati i pavimenti delle case, sono stati un po', soltanto i pavimenti, è stato travolto tutto. Fatemi riprendere un attimo e per questo io mi arrabbio quando dico, certa gente dice pubblica con la Mondadori, beato lui, se pubblica con la Mondadori sarà perché è bravo, no? Fatemene dire queste cose, sennò mi metto a piangere. No, è veramente bravo, è veramente bravo, a quanto pare è anche una persona molto alla mano, io lo conobbi a un salone del libro qualche anno fa e fu veramente fantastico, mi disse, guarda, sei talmente bella che se non avessi tutte queste robe da fare qui ma ti porterai a bere una birra, io così mi ho detto devo avere le foto da qualche parte, non mi ricordo se le ho pubblicate su Facebook oppure se ho scritto, ma deve essere che ho scritto un articolo sul blog con tutte le foto, lo vado a cercare e poi, con calma, magari domani pubblico questo articolo, così vedete il mio incontro con Corona. Un uomo adorabile, veramente, dicono che beve, vabbè, chi è che non beve qua in montagna, raga, tranne me che non posso, se no vado in coma etilico immediatamente. Bene, adesso mi sono risollevata di nuovo, posso riprendere. Allora, la notte del 9 ottobre del 1963 intorno alle 11. Allora, il monte Toc si chiamava Toc appunto perché afasia Toc, afasia Toc, sai cosa vuol dire che afasia Toc? Vuol dire che faceva dei rumori, scricchiolava già di per sé, probabilmente il monte Toc era destinato, non nel breve termine, ma nei decenni o anche nei secoli, a crollare comunque, perché era un monte probabilmente estremamente friabile. C'è un dialogo tra il monte Toc e l'altro monte, che cavolo, non mi ricordo come si chiama, giù c'era la diga, ecco sotto, un dialogo immaginario tra il monte Toc e quest'altro monte, dove il monte Toc dice all'altro, ehi, ma è possibile che non si stiano accorgendo, che io sto scendendo sempre di più, è possibile che non si stiano accorgendo, che i miei alberi che vivono su di me, si stanno incurvando sopra il lago. Tutti questi ingegneri, hanno costruito le piramidi, hanno costruito dei monumenti bellissimi, migliaia di anni fa che sono ancora lì, questi quattro coglioni, lasciatemelo dire, come ci sono tanti coglioni in giro che fanno ancora delle strutture allucinanti adesso, hanno distrutto una valle, hanno ucciso duemila persone, duemila persone, qualcuno si è trovato, la maggior parte no, hanno spazzato via in un momento, tutto, che questa gente non ha avuto neanche il tempo di rendersene conto, hanno sentito il rumore, avete presente, avete presente, io qua in montagna ho sentito una volta, anzi due, ma la seconda ero fuori, il rumore del terremoto, al mattino, proprio una sensazione, una cosa pazzesca, è durato pochissimo, ma una roba di impotenza incredibile, non è vero che non si è accorta che stava finendo questa gente, perché la gente del Vaillant sapeva che questa costruzione non era solida, sì, forse era solida, però che non erano solide le basi su cui si ergeva, avete capito? però chi andò a lavorare alla costruzione della riga, un po', gente che non vedeva un soldo mai, abbagliati da uno stipendio fisso, da quattro soldi in tasca, ha comunque contribuito a costruire questa riga, gente che sapeva della tragedia, si aspettava da un momento all'altro della tragedia, la profezia di questa vecchia che dice Erto diventerà una cittadina e poi sprofonderà, e così è stato, 9 ottobre del 1963 all'intorno tra le 10.30 e le 11.00 di notte e ricordiamocelo questo momento, diciamo una prengherina per queste povere genti, perché erano genti buone, erano genti vere, comunque per dire un libro anche strutturato benissimo, nel senso che comincia con questa allegrezza, anche se la caccia o tagliare gli alberi può non sembrare tutto questo allegro possibile e immaginabile, ma comunque con una certa leggerezza, che porta piano piano a quello che sarà poi l'epilogo del libro, insomma, quando parla di questione, poi lui parla proprio, non per sentito dire, perché lui ha vissuto realmente, ha vissuto anche la tragedia del Bayonter, lui non è stato travolto, perché era su in montagna, più in alto, e poi la gente, la gente si comincia già a sentire un po', questo sentore di tragedia, e poi vabbè, che vi devo dire, io vi consiglio soltanto di leggerlo, ecco, io divento improvvisamente scura, quando Mauro Corona, il volo della Martola, Oscar Mondadori, edito comunque da Mondadori, ce ne sono diverse versioni, io metterò, ritorno, è perché è uno schermo, qui sopra per i facebookiani, qui sotto per i youtubiani, metterò i link, anche di Kindle, perché effettivamente è meno costoso, che lo si ammetta o no, la faccenda le cula, se volete comprarmi tanti libri, e spendere molto meno, ahimè, è la cosa ideale, metterò anche, cercherò anche sul libraccio, sul sito del libraccio, vedere se c'è qualcosa di seconda mano, perché in realtà non lasciamo, non lasciamo nulla di intentato, ecco, il fatto sta che, come ho detto, a me piacerebbe tanto andare a Erdo, a me piacerebbe, ah, un giorno l'altro ci vado, però devo assicurarmi, che ci sia lui a casa, perché io ci devo fare quattro chiacchiere, con questo uno, perché è troppo forte, io ho un grande sentire, nei confronti, soprattutto degli animali, e vorrei parlarci, vorrei sentire, perché lui aveva una grande, ha una grande pietà, nei confronti degli animali, e aveva una grande pietà, nei confronti degli animali, quando era costretto, ad andare con il genitore, oppure con i battitori, a inseguire queste bestioni, insomma, mi piacerebbe fare, una chiacchierata vis-à-vis, con Mauro Corona, e, cioè, spero di aver reso l'idea, no, di, di quello che, di chi ho provato, nel leggere questo libro, ho letto tanti libri, in passato, anche di, di Mauro Corona, Il volo della Marta, non l'avevo ancora letto, però c'è sempre presente, comunque, il, c'è sempre la presenza, questa presenza schiacciata, di questa tragedia, che poi è avvenuta, fa parte, io credo che fa parte, faccia parte, del DNA, di queste persone, comunque, questo, questa cosa che è successa, e, spero di essermi spiegata bene, su come è andata, la situazione, che cosa diavolo, sono riusciti ad andare a costruire, in un posto, dove non doveva essere costruito, e soprattutto, fa impressione, appunto, questo dialogo, tra il Monte Toc, e il Monte, e il Monte, di Rimpettaio, in cui il Monte Toc dice, ma sti cretini, non si accorgono di quello, che stanno facendo, evidentemente, non se ne erano accorti, Mauro Corona, il volo della Martora, per Mondodori, adesso che lo troviate, Oscar Mondodori, nuovo Oscar Mondodori, qualche diavolo volete, ma comunque, io farò il possibile, per cercare, dei link, per poter, ve li procurare, nella maniera, più economica possibile, come sapete, io faccio sempre, in questa, in questi frangenti, allora, questo quadro qui, l'ho lasciato, è quello della volta scorsa, perché non ve ne ho parlato, e poi non ve ne ho parlato, lui, fa parte, sempre, della mia, follia, della art, in the pizza box, cioè, io dipingevo, sulle scatole, della pizza, con le vuote, le ripulivo, le disinfettavo, le facevo asciugare, poi dopo, ci dipingevo sopra, sempre ad acrilico, con il, con il, vedete com'è, leggero, tra l'altro, no? Le angustie, del capitano, Kirk Miao, penso, il teletrasporto, ed è il 2019, questo, questo, cioè, praticamente, io, in queste, l'art in the pizza box, oltre ad, adesso non riesco più a, a, a metterlo a posto, per lo stesso, mettiamolo qui, oltre ad essere, ehm, dipinto, sulla scatola, della pizza, e i protagonisti, erano sempre, a forma di gatto, comunque, questo doveva essere, il capitano Kirk, ma, in forma di gatto, ecco, l'ho detto, perché la volta scorsa, me lo sono dimenticato, vi ho presentato oggi, il volo della martora, di Mauro Corona, Oscar Best Seller, vi, eh, invito, eh, a leggerlo, perché, è veramente bello, come tanti altri, eh, libri di Mauro Corona, eh, Mauro Corona, che è una persona, veramente vera, autentica, e ha un modo di scrivere, incantevole, anche, eh, rende poetiche, anche le cose più brutte, il che non è, così, una cosa diretta, cioè, una cosa automatica, ecco, eh, in tutti gli scrittori, e io lo ammiro molto, appunto, è un personaggio controverso, nel senso che, non che è lui controverso, lui c'ha le sue idee, quelle sono, ma controverso per gli altri, come al solito, è che quando fai una cosa bene, caro Mauro, vero, ti stanno a criticare, continuamente, benissimo, cerco, ho cercato di essere più stringata possibile, perché non è che posso tenervi sempre qua un'ora, per me io andrei avanti anche tre ore, ma non, non è una bella cosa, che strane linee che ci sono indietro, non è, il mio muro non è fatto così, vabbè, sarà, sarà no, è la gravità, che vuole dirvi qualcosa, probabile, qui entriamo nella pazia, no, mi riferisco al film Interstellar, la gravità che parlava con i personaggi, allora, eh, grazie, grazie di avermi ascoltato anche questa volta, in questa domenica, bellissima, qui da noi, abbiamo un cielo azzurro, che è una cosa pazzesca, è l'inizio dell'autunno, quindi dei colori, che cominciano ad assumere toni piuttosto caldi, bellissimi, ecco, l'autunno è la stagione che preferisco, perché ci sono dei colori che ti riempiono proprio gli occhi, e l'anima, oltre che gli occhi, quindi è bellissimo, bellissima davvero, il verde è bello, sì, però, come questi colori autunnali, non c'è nient'altro, di paragonare, grazie mille, grazie di avermi ascoltata, ringrazio tanto, i colori che mi seguono su Facebook, ringrazio tanto, colori che mi seguono su YouTube, domani questa puntata sarà teletrasportata sul mio canale YouTube, di quella donna non ha lebraia mancata, e poi a voi, a voi la scelta, potete vedermi dove volete, ah su, sul canale YouTube ho messo anche, ma anche qui, nel video qua sopra, o sarà qua sotto, perché questo lo metterò fissato in alto, il video di Makiki e Junior, due dei miei gatti che si fanno le pulizie, con la musica di Franco Battiato alla cura, bellissima, io mi comuovo per niente, non mica tanto per niente, con loro sì però, grazie, grazie mille, mi raccomando, non giudicate prima di aver letto, grazie, grazie, e buon termine di domenica.